Ciao ragazzi, ben tornato in questo video, oggi siamo qui a Calamia, vi voglio far vedere il video di 15.18, oggi ho già iniziato una partita, perché non avevo voglia di accendere, fare, bla bla bla, e vabbè, giochiamo, io sono là, volevo far vedere la partita, quindi ho messo il coso lontano, un milio, comunque sono qua, qua sul divano, come sempre, è ok, sì, va bene, Comunque siamo in Genova, Toro, come sempre io sono il Toro, come già sapete, togliamo subito le scritte, perché non mi servono, già che si avvicina all'aria, eh, eh, mi ruba la palla, dai, ah, già ho sbagliato, tos, va bene, vai, che me li faccio un bel gol, 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 eh, Eh, un culo, già subito con un culo, gol, 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 gol se caricherò un video che sarà al parco con gli altri miei amici youtube va bene non attento e sbaglio sempre tasto ma perché hanno messo i tasti così raga no no vabbè aiuto cosa non mi ricordo come si chiama vabbè fuori gioco mi ha fatto venire ma sta giù il controllo che cambia no 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 culo culo di merda cambia tasti ogni secondo non so perché scrivetemelo qui sotto se avete l'interno switch ve lo fa anche a voi madonna mia no ragazzi oggi